nel canale di youtube il mio editore youtube di vb quella sera dopo la prima lezione di catechismo alle novizie dal suo computer portatile don mario entrò in internet e poi nel canale di youtube che lo affascinava dal video di una giovane donna che sembrava una medium don mario ascoltò noi siamo presenti in questi incontri da molto del vostro tempo e abbiamo notato che in molti di voi non c'è quel senso del miracolo che questi incontri rappresentano ci sembra che il vostro sentire abbia ceduto il posto all'abitudine che subentra perché il rapporto d'amore non c'è più quando si instaura un rapporto d'amore fra due individui siano essi incarnati o disincarnati esso non può essere soggetto all'abitudine che è un sentimento che si ripete sempre uguale voi invece sapete creature che ognuno di voi si trasforma minuto dopo minuto e perciò chi vi è accanto se davvero vi ama troverà sempre qualche cosa di diverso in voi scongiurando l'abitudine questa infatti subentra quando l'interesse verso l'altro non è tale da far ricercare lui dei mutamenti e quindi non vi è la volontà di adeguarsi a questi mutamenti e quindi di mutare se stessi per stare al passo con i mutamenti dell'altro alla ricerca di uno stimolo mutuo e vicendevole questo accade per la grande maggioranza delle creature per altre creature invece l'abitudine sorge anche se esiste un vero rapporto d'amore in questo caso però non è abitudine ma paura di doversi mostrare per come si è paura di dover dare e non soltanto di poter prendere paura di guardare in faccia la propria realtà a questo punto l'individuo si cristallizza in una situazione aspetta che le cose passino e un po' alla volta si lascia andare questo accade anche negli incontri con noi guide ed è naturale che accada ma è anche compito nostro rompere i cristalli quando si formano quindi figli e fratelli non vi preoccupate chi davvero in questi incontri sente il senso del miracolo e trova in sé la forza per rinnovarlo ogni giorno troverà in sé non più cristalli ma perle chi invece si aggrapperà i cristalli verrà esso stesso trasformato in cristallo e resterà lungo la strada ad aspettare un'occasione che come già dicemmo forse sarà restituita come un talento minore o più probabilmente come un talento che dovrà essere riconquistato quando don mario finì di ascoltare si chiese io nella chiesa sono un cristallo o un talento una volta di più concluse che la risposta aspettava solo lui passarono due giorni e don mario conobbe suora adalgisa che le consorelle chiamavano semplicemente gisa il primo giorno del corso la sorella gisa è stata assente e giustificata lo aveva informato la madre superiora suor gisa attendeva con ansia di conoscere don mario sperava che fosse il salvatore della sua vocazione sapeva che era un sacerdote regolare metodico ospitato sempre nello stesso convento con gli stessi superiori che si dedicava sempre al suo lavoro la sacra rota mentre il mondo e intorno friggeva e la gente continuava a sposarsi e a divorziare il mondo è stato un sacerdote regolare e la gente ha fatto un sacerdote regolare Grazie a tutti.